Capite che c'è da parte nostra un mix di soddisfazione e di emozione. La scuola è vita, futuro e socialità ed è per questo che la rinascita di Pesaro deve passare anche per l'istruzione. Così il sindaco Matteo Ricci questa mattina durante la presentazione della nuova scuola di Via La Marmora intitolata ad Antonio Brancati. È una delle migliori in Italia al top dell'efficientamento energetico, ha spiegato il primo cittadino. La struttura è stata realizzata ad un costo complessivo di 4 milioni di euro con un contributo da parte del GSE di oltre 800 mila. Significa ripartire dal sapere, quest'estate siamo ripartiti dalla cultura, oggi ripartiamo dal sapere dalla scuola. Vogliamo che i nostri figli vadano a scuola, vadano a scuola in massima sicurezza e quindi tutti da lunedì dovranno rispettare le regole, lavare le mani, portare la mascherina fino al banco, misurarsi la febbre e mantenere le distanze. Però lo facciamo anche cercando di mettere al meglio le nostre scuole, organizzandole al meglio dal punto di vista dell'edilizia. Andremo avanti non solo negli interventi di straordinaria manutenzione ma anche nel fare nuove scuole. Qui di fianco faremo una nuova palestra, poi faremo la nuova scuola Dante Lighieri e stiamo cercando i finanziamenti per fare una terza scuola nuova, speriamo prima che finisca il nostro mandato. Il Plesso si inquadra in una strategia di città sostenibile attraverso la quale l'amministrazione si è impegnata per ottenere un edificio a consumi quasi ridotti a zero, ha detto l'assessore all'operatività Enzo Belloni. C'è un bassissimo impatto ambientale grazie alla scelta di materiali naturali. Grande cura è stata rivolta all'uso della luce naturale e artificiale, ha proseguito Belloni, ma anche all'acustica con l'isolamento dai rumori esterni e al benessere termico sia in estate che in inverno, grazie ai frangisole automatizzati, al tetto verde e alle pareti ventilate. Un fiore all'occhiello della città. Presente per l'occasione anche il viceministro all'istruzione Anna Scani. Di strutture come questa ne servono almeno altre 40.000 in Italia, ha commentato l'Onorevole. Con l'apertura delle scuole, ha poi aggiunto, si misura un intero paese e non il governo. Non può essere una questione di una parte, questa è una questione di tutti. E chi l'ha resa una questione di parte, secondo me, ha fatto un cattivo servizio al paese. Per me è importante ricominciare perché è chiaramente un segnale di ripresa che si dà al paese, ossigeno. Quando riaprono le scuole si dà ossigeno alla ripresa, alla ripartenza, e quindi è importante che si riparta, naturalmente tenendo presente che bisognerà imparare facendo. Mai come quest'anno si imparerà facendo. Di fianco alla scuola di Viala Marmora sorgerà una palestra del costo di circa 3 milioni di euro, per la maggior parte finanziati da governo e comune. Soddisfatti anche il preside, Flavio Bosio, e il direttore dell'ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti. Questo è un ambiente di apprendimento al top, sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista tecnologico, del risparmio energetico, ma come potete vedere anche lo spazio fisico delle aule, queste vetrate, gli spazi, gli atri. Tutto contribuisce e contribuirà a far sì che i nostri alunni crescano in maniera consapevole. L'obiettivo, il progetto di questa scuola è fare una didattica innovativa. Siamo contenti di ripartire lunedì, la scuola la fanno i nostri alunni, le fanno le persone, e quindi la scuola in presenza è assolutamente necessaria.